Primi movimenti sul mercato per il foggia del patron canonico e del direttore sportivo Belviso, attivissimo, tanto sul fronte entrate quanto su quelle uscite nelle ultime ore. Tutto fatto per il primo volto nuovo della sessione invernale, si tratta dell'ex Torino e Cagliari Vincenzo Millico, in arrivo a titolo definitivo dall'Ascoli, club con il quale, in Serie B nella prima parte di stagione, ha collezionato appena 10 gettoni e 209 minuti complessivi senza lasciare particolari tracce di sé. E' esterno offensivo di ruolo, ma facilmente adattabile, anche in posizione più centrale in un tandem offensivo. Il 23enne piemontese si appresta ad approcciarsi per la prima volta a una realtà di Serie C dopo una prima parte di carriera che lo ha visto protagonista in massima serie e in cadetteria. Si può e si deve parlare di un colpaccio per quello che è il curriculum del calciatore in questione, di uno sforzo compiuto dalla società che ha individuato in lui, pronto a firmare fino a giugno del 2025, il sostituto del partente Tunkara. L'ex Viterbese e il sodalizio pugliese sono infatti al lavoro per risolvere il contratto che attualmente li lega dopo un girone d'andata. Piuttosto avaro in termini di soddisfazioni, non sarà l'unico addio nel reparto offensivo? Quello che maggiormente verrà rivoluzionato nel corso del mese di gennaio, vista e considerata la probabile eccessione di Beretta, bloccato da una serie di problemi fisici fino a qui, è destinato a essere inserito in uno scambio di mercato. Nel frattempo, sul campo, la squadra continua a preparare il derby dell'Epifania contro il Taranto. Derby che sarà ufficialmente a porte chiuse, niente passo indietro della procura. La riunione GOS delle scorse ore ha bocciato la richiesta della sindaca Episcopo di aprire parzialmente l'impianto ai soli abbonati.